l'idea è più bella eh mettiamo il piede sempre qua, non cazzo il vuoto lo vuoi fare? lo tiriamo su o? no, si, no, si che due coglioni che siete con tutta la roba che c'è sei da sega sei anche tu ora Severin possiamo andare fino a di là adesso arriva il ritardatario i ritardatari quel ferro lì è bellissimo quello lì quello lì lo prendi dentro con la pedivella il problema è che lì ah non lo togli più quello lì eh bravo, girano dentro sotto e basta voi adesso che siete dentro con le moto potete farlo scendere e allora passa di qua dove c'è spampi che è peggio infatti i due pollasti sono dentro lì voglio vedere l'altra volta l'avevamo fatta di qua si si ma l'abbiamo sempre qua cazzo ha rotto via un ferro io cane che sono io raglio che serve alla pedivella del zio sede però lì non c'è lotto ho detto di portarlo te ne minga portà l'ha portato dietro la resina che non serve bravo anche io l'altra volta Renzo non vengono via più quelli devi buttar via il guanto devi buttar via il guanto devi buttar via il guanto l'ho buttato la resina che per degnire spalla non ce l'ho ce l'ho la non vengono devi metterli sotto i piedi Renzo metti la mano in terra e dopo col piede le schiacci fino a quando li maceri vai vai faglieli schiacciare dai Francesco schiacciagli di te schiacciagli di te se no non vengono via guarda è un cinema intanto loro hanno potato in giro i semi ovunque però così andiamo adesso adesso sono fatti i tuoi dai tutti i tuoi poi si tutti i tuoi poi tutti i tuoi poi tutti i tuoi poi tutti i tuoi chiudi gli occhi non voglio fare uno un'omanta non è bella è un'emozione andiamo